La Puglia che speriamo, dallo stare al balcone all'impegno per il bene comune. La Commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace e custodia del creato punta l'attenzione sull'attuale situazione socio-economica della Regione di Puglia in vista del prossimo appuntamento elettorale. Sentiamo il nostro servizio. E quanto mai urgente passare, per dirla con Papa Francesco, dallo stare a guardare dal balcone e a giudicare tutto e tutti all'impegno concreto, senza nessuna forma di demagogia per il bene comune e a vantaggio della nostra amata Puglia. Termina con queste parole l'articolato documento che la Conferenza Episcopale Pugliese, Commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, presieduta dall'Arciverscovo Metropolita di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha preparato in vista del prossimo appuntamento elettorale regionale che con ogni probabilità si terrà a fine settembre. Una nota che offre spunti per un discernimento sull'attuale situazione socio-economica della regione, perché tutti possano, si legge nel documento, giungere più consapevoli a questo importante momento per la nostra democrazia. La crisi sanitaria mondiale, si legge nella nota, ci sta insegnando che non siamo invulnerabili, ma siamo fragili di fronte agli attacchi di un virus sconosciuto. Siamo passati dalla minimizzazione del pericolo al dolore, alla paura per la gravità del momento, che suscita seri interrogativi sul valore della vita e sul futuro della nostra esistenza, personale e sociale. Quello che con certezza abbiamo compreso, si ribadisce nella nota di Monsignor Santoro, è che non siamo onnipotenti. La scienza e il progresso tecnologico, pur con tutti i loro meriti, non possono eliminare il lato grigio dell'esistenza. Questa situazione mette a nudo le nostre contraddizioni. Si è passati dagli assalti ai supermercati per svuotare gli scaffali alla cura amorevole dei nostri fratelli, dall'accaparramento sconsiderato al vivere solo con ciò che è necessario. La pandemia ha già prodotto la perdita di tanti posti di lavoro, dimostrando la fragilità del nostro sistema economico e generando nuovi scartati tra i più deboli. Nei loro messaggi i vescovi ci invitano a non lasciarci dominare dalla paura e ad esercitare la carità, a pregare per gli ammalati e per chi si spende per salvare le loro vite e ci chiamano anche alla prudenza perché l'epidemia non dilaghi nuovamente. Ad ogni modo, in questo momento così difficile, prosegue la nota di Monsignor Santoro, siamo richiamati ad uno stile di vita più sobrio, meno superficiale, più responsabile, più solidale. I punti nodali del documento elaborato dalla Commissione Regionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato sono il lavoro che, insieme alla difesa dell'ambiente, ha una trattazione più ampia vista l'emergenza prodotta dal Covid-19 al tema della xylella, alla sanità, alla crisi del turismo e alla grave questione della criminalità organizzata. Nel rispetto del primato della persona, sentiamo il dovere di spronare la classe politica regionale ad operare per superare il disagio sociale e costruire il bene comune. Non possiamo pensare a questa elezione come un fatto di ordinare amministrazione. L'attuale condizione di pandemia, conclude la nota, chi ha frammentato le relazioni sociali orientandole verso un pericoloso individualismo potrebbe rappresentare un alibi per ritirarsi dalla politica. Al contrario, riteniamo che possa essere la spinta a ripensare il servizio alla polis con modalità nuove. Per i credenti, infatti, la politica rimane la più alta forma di carità.